Torna a Napoli l'appuntamento con la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori al seno, evento simbolo della Comin'Italia, associazione di promozione sociale. La Race si svolgerà domenica 15 ottobre, partenza alle 9.30 da Piazza del Plebiscito per la tradizionale corsa di 5 km o passeggiata di 2 km aperta a tutti. Testimonial di quest'anno Marisa Laurito che ha anche lanciato un appello prevenzione e la parola d'ordine come conferma Ciro Verdolivo, direttore generale dell'ASNapoli 1. La prevenzione è fondamentale perché noi siamo una squadra a lavoro per garantire salute e ci affianchiamo di associazioni, di chi ha voglia in modo serio come fa Comin' per poter dare una maggiore campagna di comunicazione a livello di prevenzione e non solo ma anche concretamente perché noi saremo per strada insieme a Comin' con i mammografi e quindi potremmo eseguire anche diagnostica. Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente del Comitato regionale della Comin' Italia, ha rivelato anche l'iniziativa che porterà alla vendita dei gadget in rosa ispirati a San Gennaro. Quest'anno ci allarghiamo perché noi siamo come in Campania e quindi è giusto che ci sia in tutta la Campania una maratona, la race for the course, si sposterà quindi con una sorta di staffetta ideale a Mercogliano, a capo alla reggia di Caserta a Salerno. In sala giunta a Palazzo San Giacomo intervenute anche Maria Grazia Falciatore, capo di gabinetto del Comune di Napoli, Marcella Montemarano responsabile del centro screening senologico di primo e secondo livello dell'ASL Napoli 1 ed Emanuela Ferrante assessore allo sport e alle varie opportunità del Comune di Napoli. Con questa maratona vogliamo dimostrare che innanzitutto teniamo alle nostre donne e soprattutto che le donne che hanno grandi difficoltà dal punto di vista purtroppo di salute possono attraverso lo sport risollevarsi. Grazie a un protocollo d'intesa con il Ministero della Cultura nei giorni della manifestazione tutti gli iscritti alla race possono beneficiare dell'ingresso gratuito nei musei. A fiancherà la settima Race for the Cure a Napoli la carovana della prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Comune Italia. Corse, camminate e altri eventi accompagnati sempre dalla carovana raggiungeranno Mercogliano, Avellino e la reggia di Caserta il 21 e 22 ottobre, Salerno il 26, 27 e 29 ottobre e Capo in provincia di Caserta il 28 e 29 ottobre.